Il pressing vincente di Junko che supera un avversario, c'è Caputo sulla sua sinistra, in area di rigore, Caputo! Ciccio Caputo, bari in vantaggio al 39esimo. Ancora l'accelerazione di Defendi, si inserisce in area di rigore Ghezzal, buona la finta di corpo, il pallonetto! Ma che gol ha fatto Ghezzal, che gol ha fatto! 2-0 per il Bari! Espulso nella fiore per aver colpito un avversario in area di rigore, e l'arbitro ha segnato anche il calcio di rigore. Caputo, dal dischetto, Caputo! 3-0 per il Bari!